L'emergenza coronavirus rischia di farci perdere 3,9 miliardi di euro di consumi, la stima e di confesercenti. La frenata avrà conseguenze pesanti sul tessuto imprenditoriale, potrebbe portare alla chiusura di 15.000 piccole imprese in tutti i settori. A rischio 60.000 posti di lavoro. La situazione è particolarmente grave nel turismo. Il comparto è già in zona rossa, con le attività ricettive travolte da un diluvio di disdette. La stagione primaverile, che vale il 30% del fatturato annuo del comparto, appare compromessa, con la prospettiva di ulteriori danni non solo per alberghi e B&B, ma anche per bar, ristoranti e attività commerciali. L'economia italiana rimane debole, nonostante un graduale miglioramento del mercato del lavoro. Dopo una crescita dello 0,8% nel 2018 e dello 0,2% nel 2019, il PIL quest'anno dovrebbe crescere dello 0,3% e dello 0,6% nel 2021. La domanda interna rimane contenuta, aumenta il risparmio. La Commissione europea ha pubblicato le relazioni per i Paesi membri, in cui si analizzano le grandi sfide socio-economiche di ciascuno Stato. La crescita lenta della produttività sta ostacolando ancora la ripresa economica dell'Italia, si sottolinea nella relazione sul nostro Paese. Il tasso di occupazione rimane ancora inferiore alla media dell'Unione europea, in particolare per le donne e i giovani, anche se è aumentato nel 2019, guidato da contratti a tempo indeterminato, soprattutto nel Nord. A gennaio 2020 le importazioni verso i Paesi extra-Unione europea sono cresciuti del 7,2%, le esportazioni del 5,4%. Lo rileva l'Istat. L'incremento congiunturale dell'export riguarda tutti i raggruppamenti principali di industrie, in particolare energia, beni strumentali e beni di consumo non durevoli. Dal lato dell'import si rilevano aumenti su base mensile per energia, beni strumentali, beni di consumo non durevoli e beni intermedi, mentre sono in diminuzione gli acquisti di beni di consumo durevoli. Sempre più aziende nell'Unione europea utilizzano i social media. Nel 2019 un'impresa su due ha riferito di utilizzare almeno un tipo di social media, il che significa un aumento di 16 punti percentuali dal 2014. L'uso dei social media è più diffuso a Malta, dove riguarda l'84% delle aziende seguita da Danimarca, Paesi Bassi, Cipro, Svezia, Belgio, Irlanda e Finlandia, mentre meno popolare tra le imprese in Italia, Romania, Bulgaria, Polonia, Ungheria, Lettonia e Slovacchia. Rispetto al 2014 la percentuale di imprese che utilizzano i social media è aumentata in tutti gli stati dell'Unione europea. Gli aumenti più alti sono stati registrati in Danimarca e Lussemburgo, seguiti da Finlandia, Svezia e Lettonia, mentre gli incrementi più bassi sono stati osservati in Bulgaria, Irlanda, Portogallo, Romania e Slovenia.